L'arte in ogni sua forma e bellezza, le installazioni, il teatro nazionale ed internazionale e poi ancora la danza, i talk e i laboratori. Il Festival Castel de Mondi è pronto per incantare nuovamente la città di Andria. Il 25 agosto prendere il via la 27esima edizione della rassegna e anche quest'anno saranno le installazioni le protagoniste del lancio del festival. Nella chiesa di Porta Santa arriverà Optional, un gigantesco encefalo realizzato in vinile trasparente gonfiabile e ideato da Renato Meneghetti. Il simbolo dell'uso del cervello come Optional appunto negli uomini del terzo millennio e poi il ritorno dell'artista tranese Dario Agrimi, già protagonista dell'edizione dello scorso anno con le installazioni Sofisma e Voli Pindarici in Piazza Catuma. Questa volta Agrimi porterà il suo golem, scultura di grandi dimensioni paradigma della problematica condizione dell'uomo nel mondo contemporaneo, tra ansie, dubbi ed effimere verità causate ad esempio dall'intelligenza artificiale. Così partirà la 27esima edizione del Festival Castel de Mondi sotto la consueta direzione artistica di Riccardo Carbutti, direttore di produzione Francesco Fisfola. Il tema del festival di quest'anno è Overtime, un invito a riflettere sulla fine di certi schemi e vecchi modelli della società. Il Castel de Mondi 2023 proverà a liberare il pubblico dalle restrizioni della quotidianità, aprendo nuovi mondi e possibilità. Oltre a Piazza Catuma e Chiesa di Porta Santa, la rassegna toccherà altri luoghi culturali della città federiciana, come Castel del Monte, il Museo di Ocesano, l'Officina San Domenico, il Teatrino di San Francesco, la Villa Comunale, l'ex Macello di Via Canosa e poi ancora Casa Coglienza, Santa Maria Goretti e la sede del CPA BAT, Gino Strada. La 27esima edizione del festival terminerà ufficialmente il 24 settembre, mentre gli appuntamenti teatrali si concluderanno l'11. La rassegna gode del patrocinio della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese, oltre che del Comune di Andrea.